Endless love, suspense e colpi di scena sono il pane quotidiano degli appassionati di misteri. Tuttavia, pochi eventi hanno catturato l'attenzione dei telespettatori come l'accusa che grava su Kemal, sospettato della scomparsa di Asu. Gli spettatori, insieme a Nyan, sono rimasti col fiato sospeso, mentre gli indizi accumulati sembravano chiudere in trappola Kemal senza possibilità di scampo. Le tracce di sangue sul letto di Asu, gli oggetti sparsi come in una lotta disperata, e le inquietanti impronte che si perdevano nel nulla, tutto indicava un solo colpevole. Kemal, intrappolato nella rete di indizi, sembrava destinato a un inesorabile declino. La tensione ha raggiunto l'apice quando il commissario Merkan, incaricato delle indagini, ha fatto irruzione nella casa di Asu, scoprendo ulteriori prove che sembravano cementare la colpevolezza di Kemal. Tra questi indizi, una bottiglia di vino mezza vuota e un bicchiere con le impronte di entrambi. Kemal, reso ancora più vulnerabile dai fatti, nascondeva un dettaglio scottante che nessuno conosceva. Era stato l'ultima persona a vedere Asu prima della sua scomparsa. E, cosa ancora più critica, era ubriaco durante il loro ultimo incontro. Questo dettaglio, sconvolgente e compromettente, ha gettato ulteriori ombre sulla sua innocenza, lasciando Nyan e gli spettatori nel dubbio più totale. La domanda predominante durante l'intero episodio era, Asu è davvero morta? La suspense ha continuato a crescere quando, in un momento di disperazione, Nyan ha scoperto una lettera nascosta dietro un quadro nella stanza di Asu. La lettera, scritta con una calligrafia tremolante, rivelava segreti inconfessabili e accennava a un piano di fuga. Ma il mistero si infittiva. Chi era veramente Asu? E perché voleva incastrare Kemal? Mentre il pubblico tratteneva il respiro, la verità è emersa in modo sorprendente verso il finale dell'episodio. Asu non era morta. Al contrario, aveva orchestrato un inganno elaborato per incastrare Kemal con la complicità di Tufa. Asu aveva pianificato tutto nei minimi dettagli, manipolando prove e testimoni per far credere a tutti, soprattutto a Kemal, di essere stata uccisa. Il suo piano contorto aveva un unico obiettivo, impedire la riunione di Kemal e Nyan, distruggendo qualsiasi possibilità di felicità per il suo ex amante. La rivelazione finale ha lasciato tutti a bocca aperta. L'inganno di Asu non solo ha sconvolto le vite dei protagonisti, ma ha anche reso chiaro che le apparenze possono essere ingannevoli. La forza e la determinazione di Kemal nel risolvere il caso dimostrano che, nonostante tutto, la verità può sempre venire a galla. Continueremo a seguire le vicende di Kemal e Nyan, certi che il loro cammino sarà pieno di altri intrighi e sviluppi inaspettati. La storia non finisce qui. Ogni ombra ha il suo segreto. E ogni segreto la sua ombra. Grazie a tutti.